Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana, prudenza per pioggia su gran parte della regione, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Per le statali sul raccordo Siena-Firenze, lo svincolo di Tavarnelle è chiuso verso Siena per lavori fino al 6 ottobre, chiuso per cantieri da domani 2 ottobre fino a venerdì 6 anche lo svincolo di Poggi Ponsi Nord, questa volta in direzione di Firenze. Prima di salutarci, informiamo che per domani 2 ottobre è previsto uno sciopero nazionale del trasporto aereo a Firenze, lo sciopero sarà di 24 ore, mentre a Pisa lo stop sarà di 4 ore, dalle 12 alle 16, possibili disagi. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!